La nuvola revisione è un elemento a forma di fumetto o nuvola che permette di evidenziare facilmente le modifiche che devono essere apportate al disegno. Alla sezione proprietà è possibile definire le impostazioni generali per le nuvole revisione e alla sezione gestore revisioni specificare i destinatari delle modifiche. Per creare le nuvole revisione all'interno della vista posizionare il punto di partenza del contorno della nuvola, quindi specificare l'angolo opposto. Infine assegnare la nota di revisione. Le nuvole revisione possono essere anche posizionate all'interno della tavola di stampa. Un abaco revisioni può essere creato per elencare le revisioni relative alle nuvole presenti nella vista. Visita il link in descrizione per saperne di più.